Il signor fratello Abate le ha messo in mano una tazza di cioccolata e ora le sorride con aria interrogativa. Marianna è intenta a guardare, al di là degli alti gegli e dei tronchi dei melograni, la città di Palermo, che si stende come un tappeto cinese, dai colori rosa e verde, in uno spolverio di case grigio piccione. La cioccolata sulla lingua ha un sapore amarognolo e profumato. Ora il fratello batte un piede sul pavimento di legno della veranda, che si è impaziente di mandarla via. Eppure è appena arrivata, dopo due ore di lettiga su per i viottoli rocciosi che portano verso San Martino delle Scale. «Voglio dare sposa a un famiglio. Chiedo il vostro consiglio per una brava ragazza», scrive Marianna usando i suoi complicati strumenti letterari. La tavoletta pieghevole appesa a una cinghia, la penna d'oca dalla punta smontabile appena arrivata da Londra, il calamaio, attaccato ad una catenella, un quadernetto dai fogli estraibili. La sorella spia la faccia larga del fratello mentre legge le sue parole. «Non è fretta quella che gli corruga la fronte, ora se ne rende conto, ma imbarazzo. Questa sorella, chiusa com'è nei suoi silenzi forzati, gli è sempre apparsa lontana, straniera. Salvo forse per quel periodo quando era ancora viva la nonna Giuseppa, in cui tutte e due si infilavano nel letto di lei. Allora lui aveva l'abitudine di stringerla e baciarla così forte che la lasciava senza fiato. Poi, non si sa come, non si sono più frequentati. Ora lui sembra chiedersi cosa ci sia dietro a quella richiesta di consiglio della sorella sordomuta. Una pretesa di alleanza contro il fratello maggiore che sta precipitando nei debiti? O un curiosare nella sua vita di abate solitario? O una richiesta di soldi? Grappoli di pensieri disordinati gli sgusciano fuori dagli occhi, dalle narici, senza armonia, senza intenzioni. Marianna lo vede tormentare con le dita grassocce una foglia puntita di giglio, e sa che non potrà sfuggire all'onda delle riflessioni di lui, che la stanno raggiungendo dal fondo di un cervello svogliato e mordace. La signora sorella inquieta, che abbia paura di invecchiare. Strano come regga bene l'età. Neanche un filo di grasso, nessuna deformazione, snella come quando aveva vent'anni. La carnagione è chiara, fresca, i capelli ancora ricci e biondi. Solo una ciocca bianca sulla tempia sinistra, che se li tinga con l'essenza di camomilla. Eppure anche il signor padre, se ricorda bene, ha conservato i capelli biondi serafici fino a tarda età. Solo a lui sono toccati questi quattro fili sbagliati. Inutile guardarsi allo specchio. La lanuggine cresce per via di quella erba grassa mista all'ortica che gli ha consigliato la nipote, felice. Ma rimane lanuggine, come di bebè. Non riesce a farsi i capelli. Conserva la faccia da ragazzina, questa sorella mutola, mentre la sua si è gonfiata e fa bozzi da tutte le parti. Che sia la mutezza ad averla preservata dalla rovina degli anni. C'è un chiedi virginale in quegli occhi da stralunata. Quando lo guarda così gli mette paura. Il marito zio chissà che baccalà. Il signor Pietro lo si vedeva da come camminava, che era inetto, tutto scatti, torsioni, legnosità. E lei ha conservato un candore da giovane sposa. Dietro quei pizzi, quelle mantelle, quei fiocchi color notte, c'è un corpo che non conosce il piacere. Deve essere così. Il piacere consuma, dilata, sgretola. Il piacere, sì. Di cui lui si è imbrattato mani e piedi, prima con le donne dai dorsi esili e senza seni, con cui si impegnava in corpo a corpo da lasciare spossati. Sfociato poi con gli anni, in un gusto paterno e sensuale per i corpicini deformi e macilenti di ragazzini scontrosi, che ama ormai solo con lo sguardo e il pensiero. Mai rinuncerebbe alla gioia di avere intorno a sé quei piccoli esseri dalle gambe storpiate dalla denutrizione, quegli occhiuzzi neri sfavillanti, quelle dita che non sanno prendere, eppure pretendono di afferrare il mondo. Non rinuncerebbe a uno solo di quei protetti, neanche per recuperare immediatamente il suo stesso corpo di giovanotto, dai capelli folti e il collo sottile. È lei che ha perso tutto perdendo la voce. Ha paura. Le si legge negli occhi che se la fa sotto. È per paura che si impedisce di vivere, e si butta nella tomba ancora intera e vergine, ma già soffocata, già fatta a pezzi, già morta, come un ciocco male abbozzato. Chissà chi le ha dato quella tigna. Non certo il signor padre, che è sempre stato gentile e distratto, ancora meno la signora madre, che si era mimetizzata con le coperte del letto a tal punto da non riconoscere le proprie gambe. Il tabacco e il laudano la tenevano, in quel limbo da cui diventava sempre più nauseante allontanarsi. Marianna non riesce a staccargli gli occhi di dosso. I pensieri del fratello scivolano con facilità dalla testa di lui a quella di lei, come se la mano esperta di un giardiniere stesse sperimentando un innesto spericolato. Vorrebbe fermarlo, strappare quel rametto estraneo da cui cola una linfa ghiacciata e amara, ma come avviene quando si fa recipiente di pensieri altrui, non riesce poi a rifiutarli. È presa da un bisogno acre di toccare il fondo dell'orrore, dando corpo alle parole più segrete e volanti, più abbiette e inutili. Il fratello sembra intuire il disagio di lei, ma lo vince con un brillio degli occhi e un sorriso gentile. Poi si impossessa della penna e scrive riempiendo un foglio di lettere minute, slanciate, bellissime a guardarsi. Quanti anni ha lo sposo? 24. E cosa fa? Cantiniere. Di quanto dispone? Di suo niente. Gli darò io un migliaio di scudi. Mi ha servita lealmente. La sorella e pure essa serve in casa mia. Me l'ha regalata il signor padre anni fa. E quanto gli date al mese? 25 tarì. L'abate Carlo Ucria fa una smorfia, come a dire che non c'è male. Si tratta di un buono stipendio. Qualsiasi ragazza del popolo potrebbe desiderarlo come marito. Potrei sistemare la sorella di Totuccio lo spaccapietre. Sono talmente poveri in quella famiglia. Che se potessero venderla al mercato se ne libererebbero subito di quella figlia. E anche delle altre. Cinque sorelle e un fratello. Una vera disgrazia. Per un pescatore senza barca né retti che pesca nelle varcazze altrui. E si nutre dei resti che i padroni gli lasciano in cambio del suo lavoro. Va a piedi scalzi pure la domenica. E per casa ha una spelonca tutta nera di fumo. La prima volta che c'è stato per fare piacere a Totuccio, quel babbaluceddu, la madre schiacciava pidocchi alla minore delle figlie, mentre le altre le facevano corona. E ridevano le vastase, con quelle bocche affamate, quegli occhi di fuori, quei colli di gallina. Piccole, storte. Nessuno se le vorrà mai come muglieri. Non sono buone neanche a lavorare. Hanno patito troppo la fame. Chi vuoi che se le pigli? La più grande ha la gobba. La seconda è il gozzo. La terza è un sorcio. La quarta un ragnetto. La quinta uno scorfano. Eppure il padre stravede per quegli sgorbi. Lucitrulune. Bisogna vedere come se le coccola. E la madre con le mani tutte taglie l'erciume. Le solletica, le pulisce. Gli fa le triccine unte con l'olio di pesce. Che risate si facevano tutte insieme. Totuccio si era messo a fare il mezzo braccio a nove anni per portare soldi a casa. Ma che poteva portare? Un tarì ogni quindici giorni. Roba che non ci compri neanche un rotolo di pane. Bisognava vederlo quel giorno che è arrivato al convento mezzo nudo, reggendo un paniere di pietre sulla testa, sporco di calcine e di fango. E con che serietà si era messo ad allineare quelle pietre tanto pesanti, che a stento riusciva a staccarle da terra, vicino alla iola dei gigli. Dovrebbe ringraziare padre Domenico, che ha la mania dei muretti. Senza di lui il ragazzo non sarebbe mai capitato da quelle parti. Ora ci vivono in otto, con i suoi soldi. Mica tanto. Bastano pochi carlini. Ci fanno la minestra di lisca di pesce, il pane con la crusca. Ma sono allegri e si sono ingrassati e ripuliti. Sembra un'altra famiglia. Non è che lui l'abbia fatto per il loro bene. Non ha l'anima del samaritano, ma insomma, il bene ne è venuto fuori lo stesso. È questo il vizio? Fanno ridere quei padri con la puzza sotto il naso. Quell'eterno borbottio di moralisti. Pure lei, questa sorella dal cipiglio doloroso. Chi si crede di essere? Santa Genoveffa? Perché non allarga le braccia. Non mette un piede in fallo. Non si leva quelle bende dagli occhi. Tanto tutto quello che si fa, lo si fa per il nostro piacere. Che sia un piacere raffinato, come quello di servire i poveri. O un piacere grossolano, come quello di godersi la vista di un picciottetto dalla vita stretta e il culo a pagnotella. Fa lo stesso. Non si diventa santi per volontà, ma per piacere. C'è chi fa l'amore col diavolo, chi lo fa col corpo piagato di Gesù nostro Signore, chi lo fa con se stesso, chi lo fa con i ragazzini come lui, ma senza abusare della loro volontà, senza carpire o strappare o violare niente. Il piacere è un'arte che conosce le sue misure, i suoi limiti, e il più grande piacere sta nel rispettarli questi limiti e farsene una cornice per la propria armonia. Gli eccessi non gli assomigliano. Gli eccessi lo getterebbero dritto e fresco dentro il calderone degli intrallazzi, delle finzioni, delle forzature, degli scandali. E lui ama troppo i libri per credere nei bollori della carne. L'occhio sa carezzare più della mano, e i suoi occhi si saziano, ma con quanta dolcezza, di sguardi e di tenerezze non dette. Ora basta, si dice Marianna. Ora gli scrivo che la smetta di sciorinarmi i suoi pensieri. Ma la sua mano rimane posata quieta sul grembo, gli occhi socchiusi nella penombra di quelle foglie di melograno che mandano un profumo sottile e agro. Ho una ragazza per voi. Si chiama Peppi Nedda. È brava, a sedici anni. È povera e in canna, ma se voi la favorite... Marianna annuisce. Le sembra inutile riempire un altro foglio. La sua mente è spossata dalle orde di pensieri che le hanno percorso su e giù la testa come una banda di topi in festa. Ora ha solo voglia di riposare. Di Peppina sa già tutto. E non le dispiace che sia stato il fratello a sceglierla per delle ragioni bislacche, tanto una ragione vale l'altra. Se l'avesse chiesto alle sue figlie si sarebbero agitate e non avrebbero cavato un ragno dal buco. Carlo, con la sua filosofia del piacere, quegli occhi di maiale intelligente, è uno capace di risolvere le difficoltà degli altri, combinando delicatamente i suoi interessi con quelli di chi gli sta a cuore. Non si propone di fare il bene e perciò può anche farlo. Il suo naso da tartufo sa trovare il tesoro e lo stana per lei, come sta facendo adesso, con generosità. Non le rimane che ringraziarlo e andarsene. Eppure qualcosa la trattiene, una domanda che le stuzzica la mano. Prende la penna, ne mordicchia la punta, poi scrive rapida al suo solito. Carlo, ditemi, voi ricordate che io abbia mai parlato? No, Marianna. Nessuna esitazione, un no che chiude il discorso, un punto esclamativo, uno svolazzo. Eppure io ricordo di aver udito con queste orecchie dei suoni che poi ho perduto. Non ne so niente, sorella. E con questo il colloquio è concluso. Lui fa per alzarsi e congedarla, ma lei non accenna a muoversi. Le dita tormentano ancora la penna, si macchiano d'inchiostro. C'è altro? Scrive lui chinandosi sul tacuino della sorella. La signora madre una volta mi disse che non sempre sono stata mutola e priva di udito. Adesso che le prende? Non le è bastato venire a disturbarlo per un famiglio di cui magari è innamorata? Già, come non pensarci prima? Non sono fatti della stessa carne. Lubrichi e indulgenti verso le proprie voglie, pronti a carpire, trattenere, pagare, perché tutto è loro permesso per diritto di nascita? Santo Signore perdono. Forse è solo un pensiero cattivo. Gli ucria sono stati dei buoni cacciatori, degli insaziabili accapparratori. Anche se poi si fermavano sempre a mezzo, perché non avevano il coraggio degli eccessi, comeisce Barras. Guardate la signora sorella Marianna, con quel pallore da lattante, quella bocca morbida. Qualcosa gli dice che è tutto da inventare in lei. Un bel gioco, sorella, la vostra età. Una locura. E nessuno che le insegni i rudimenti dell'amore. Ci lascerà le penne, come è facile prevedere. Lui potrebbe insegnarle qualcosa, ma non sono esperienze che si possono scambiare fra fratelli. A che le protta era da piccola. Tutta paura e allegria. Ma è vero, parlava quando aveva quattro, forse cinque anni. Lo ricorda benissimo. E ricorda quel sussurrare in famiglia, quel serrarsi di bocche atterrite. Ma perché? Cosa cavolo stava succedendo in quei labirinti di Via Alloro? Una sera si erano sentiti dei gridi da accapponare la pelle. E Marianna, con le gambe sporche di sangue, era stata portata via. Sì, trascinata dal padre e da Raffaele Cuffa. Strana l'assenza delle donne. Il fatto è che sì, ora lo ricorda. Lo zio Pietro, quel capraro maledetto, l'aveva assalita e lasciata mezza morta. Sì, lo zio Pietro, ora è chiarissimo. Come aveva potuto dimenticarlo? Per amore, diceva lui, per amore sacrosanto che lui l'adorava quella bambina e se n'era annisciuto pazzo. Com'è che aveva perduto la memoria della tragedia? E dopo? Sì, dopo. Quando Marianna era guarita, si era visto che non parlava più, come se, zac, le avessero tagliato la lingua. Il signor padre, con le sue ubbie, il suo amore esasperato per quella figlia, cercando di fare meglio, ha fatto peggio. Una bambina al patibolo. Come poteva venirgli in mente una simile bagianata? Per regalarla poi a tredici anni a quello stesso zio che l'aveva violata quando ne aveva cinque. Uno scimmunitazzo, il signor padre signoretto. Pensando che il malfatto era pur suo, tanto valeva che gliela dava in sposa. La piccola testa ha cancellato ogni cosa, non sa. E forse è meglio così. Lasciamola nell'ignoranza, povera mutola. Farebbe meglio a prendere un bicchiere di laudano e mettersi a dormire. Non ha pazienza lui con le persone sorde, né con quelle che si legano con le proprie mani, né con quelle che si regalano a Dio con tanta dabbenaggine. E non sarà lui a rinverdirle la memoria mutilata. Dopotutto si tratta di un segreto di famiglia, un segreto che neanche la signora madre conosceva. Un affare fra uomini, un delitto forse, ma ormai espiato, sepolto. A che serve infierire? L'abate Carlo, inseguendo i pensieri più reconditi, si è dimenticato della sorella che ormai si è allontanata. È quasi arrivata al cancello del giardino e da dietro sembra che pianga. Ma perché dovrebbe piangere? Le ha forse scritto qualcosa? Come se avesse sentito i suoi pensieri, la babba suna. Chissà che dietro quella sordità non ci sia un udito più fino, un orecchio diabolico capace di svelare i segreti della mente. «Ora la raggiungerò», si dice. «La prenderò per le spalle, la stringerò al petto. Le darò un bacio sulla guancia. Lo farò. Cadesse il cielo. «Mariana!» grida avviandosi dietro alla sorella. Ma lei non può sentirlo. E mentre lui si tira su dalla poltroncina in cui era sprofondato, lei ha già varcato il cancello, è salita sulla lettiga d'affitto e sta discendendo lungo la scarpata che porta a Palermo. «Vorrei voler, signor, quel che io non voglio». I libri mandano un buon odore di pelle conciata, di carta pressata, di inchiostro secco. Questo libretto di poesie pesa nelle sue mani come un blocchetto di cristallo. Le parole di Buonarroti si compongono nel pensiero con la precisione, la purezza di un disegno a inchiostro di china. Una piccola perfetta geometria linguistica. Caro ma il sonno, è più l'esser di sasso. Mentre che il danno e la vergogna dura, non veder, non sentirme gran ventura. Però non mi destar. De, parla basso. Marianne alza gli occhi sulla finestra. È venuto giù il buio e sono appena le quattro e mezzo. Fa freddo nella biblioteca, nonostante la brace che arde nello scaldino. Solleva una mano per tirare il cordone del campanello, ma proprio in quel momento vede la porta che scivola su se stessa, precedendo un alone di luce. Sulla soglia appare un candelabro e dietro il candelabro, tenuto a braccio teso, fila. La sua faccia è quasi del tutto coperta da una cuffia di tela grezza che le scende stranamente sulle guance, le copre le orecchie, le si chiude sotto la gola con un cordoncino che le taglia il respiro. È bianca come uno straccio e gli occhi sono rossi, come se avesse pianto. Marianne le facenno di avvicinarsi, ma fila finge di non averla capita. Accenna rapida una riverenza e si avvia verso la porta dopo aver posato il candeliere sul tavolo. Marianne si alza dalla poltrona in cui è sprofondata, la raggiunge, la ferra per un braccio che sente tremare. La pelle è di accia, coperta da un velo di sudore. Che hai? Le chiede con gli occhi. Le quella cuffia sale un odore acido e grasso, nauseabondo. Poi si accorge di un liquido nero che le sta colando lungo le orecchie, sul collo. Cos'è? Marianna la scuote, la interroga a gesti, ma la ragazza china la testa cocciuta e non reagisce. Marianna tira il cordone per chiamare innocenza e intanto continua ad annusare la ragazza. Innocenza non sa scrivere, ma quando vuole sa farsi capire meglio di fila. Appena la cuoca entra nella biblioteca, Marianna le mostra la testa di fila, la cuffia di tela macchiata di scuro, quel nero che le cola lucido e puzzolente sul collo. Innocenza scoppia in una risata. Scandisce lentamente la parola tigna in modo che la duchessa possa leggergliela sulle labbra. Marianna ricorda di aver letto in un opuscolo sui cosmetici della scuola di Salerno, che la tigna a volte viene curata dai popolani con la pece bollente. Ma è un sistema drastico e pericoloso. Si tratta di bruciare il cuoio capelluto, di mettere a nudo il cranio. Se il malcapitato resiste, guarisce. Se no, muore lacerato dalle bruciature. Con uno strattone Marianna tira via la cuffia dalla testa di fila, ma vede che il danno è già fatto. Il povero capo, privo completamente di capelli, è squarciato da larghe chiazze di pelle bruciata e sanguinolenta. Ecco che cosa si era portata appresso dalla sua ultima visita a certi parenti di Ficarazzi. Dieci giorni in una di quelle grotte buie, fra asini, galline, scarafaggi, e ora, senza dirle niente, sta cercando di liberarsi dei parassiti bruciandosi la testa a morte. Le stranezze di fila sono cominciate dopo il matrimonio di Saro con Peppinedda. Ha preso a vagare di notte in camicia addormentata. Una mattina l'hanno trovata svenuta e mezza affogata dentro la vasca delle ninfee. Ora questa faccenda della tigna. Un mese addietro le aveva chiesto il permesso di andare a visitare dei lontani cugini di Ficarazzi. Era venuto un uomo enorme, dai gamballi di pelle di capra, a prenderla con un carretto dipinto di fresco. Bellissimo a vedersi con i suoi paladini, i suoi boschi, i suoi cavalli. Fila è montata fra un cane e un sacco di grano. È partita facendo ciondolare le gambe e sembrava contenta. Ricorda di averla salutata dalla finestra e di avere seguito con lo sguardo la figurina minuta sul carro dai colori sgargianti che si allontanava verso Bagheria. Saro si era sposato da una settimana. Marianna gli aveva regalato una grande festa col vino delle sue cantine e tante qualità di pesci, dagli sgombri e dagli ariccioli arrostite sulla brace ai polpi bolliti, dalle sarde a beccafico alla linguata al forno. Peppina aveva mangiato tanto che poi si era sentita male. Sarino sembrava soddisfatto. La moglie sceltagli dalla signora duchessa era di suo gusto. Piccola come una bambina, scura di pelle, le braccia coperte di peli, la bocca fresca dai denti robusti e bianchi, gli occhi grandi e liquidi come due gremolate di caffè. Si è subito rivelata una ragazza intelligente e volitiva, anche se selvatica come una capra. Abituata a patire la fame e a sfacchinare in casa, a rammendare le reti da altri sotto il sole, saziandosi di un pezzo di pane strusciato con l'aglio, mostra la sua felicità mangiando di tutto, correndo di qua e di là e cantando a squarciagola. Ride spesso, è testarda come una mula, ma ubbidisce al marito perché sa che questo le tocca. Ha un modo di ubbidire però che non ha niente di servile, come se ogni volta fosse lei a decidere proprio ciò che le viene ordinato per suo capriccio, come una gran regina. Saro la tratta come un animale di sua proprietà, a volte giocando con lei sul tappeto della sala gialla, buttandosi per terra, facendole il solletico, ridendo fino alle lacrime, a volte dimenticandosi di lei per giorni interi. Se fosse vivo il signor marito zio li caccerebbe tutti e due, si dice Marianna, e invece lei li tollera, anzi prova piacere a guardarli quando giocano a quel modo. Da che Saro sia sposato si sente molto più quieta, non cammina più in punta di piedi per schivare le trappole disseminate lungo la sua giornata, non sta più nel terrore di restare sola con lui, non aspetta di vederlo passare la mattina sotto la finestra, la camicia di buccato aperta sul collo tenero, quell'ala di capelli che gli scivola a sorniona sulla tempia. A Peppinedda ha dato l'incarico di aiutare Innocenza in cucina e lei si è dimostrata bravissima nello sbudellare i pesci, nel grattare via le scaglie senza schizzarle intorno, nel preparare gli intingoli di aglio e olio, origano e rosmarino per le grigliate. Anche Peppinedda, come fila, i primi tempi non riusciva a portare le scarpe. Per quanto gliene avesse regalate due paia, uno di pelle e uno di seta ricamata, andava sempre in giro scalza, lasciando delle piccole impronte umide sul pavimento lucido dei saloni. Da cinque mesi è incinta, ha smesso di giocare con Sarino, porta in giro la pancia come un trofeo. I capelli, nerissimi, le tiene stretti dietro alla nuca, con un nastrino rosso brillante. Cammina a gambe larghe, come se dovesse scodellare il figlio lì, in mezzo alla cucina o nella sala gialla, ma non ha perso nessuna delle sue abilità. Manovra il coltello come un soldataccio, parla poco o niente e dopo le prime abbuffate ora mangia come un passerotto. In compenso ruba, non soldi né oggetti preziosi, ma zucchero o biscotti o caffè e strutto. Nasconde i cibi nella sua stanza, sotto i tetti e poi, appena può, si fa portare a Palermo e regala ogni cosa alle sorelle. Un'altra sua smania sono i bottoni. Da principio rubava solo quelli caduti, poi ha cominciato a staccarli, girandoli fra le dita con l'aria sognante. Da ultimo ha preso l'abitudine di spiccarli dalle camicie con un colpo di denti e se qualcuno la sorprende, li tiene in bocca finché non li mette al sicuro in camera sua, dove li ammucchia in una vecchia scatola di biscotti. Saro, che ha imparato a scrivere abbastanza bene, racconta a Marianna ogni cosa della giovane moglie. Sembra che provi un gusto particolare a riferirle dei piccoli imbrogli della sua mughieri Peppinedda, come a dirle che se succedono queste cose, la colpa è tutta sua, che ha voluto dargliela per forza. Ma Marianna si diverte alle stravaganze di Peppinedda. Le mette allegria quella ragazzina un po' gobba, forte come un torello, selvatica come un bufalo, silenziosa come un pesce. Saro si vergogna un poco di lei, ma ha imparato a non dirlo. La lezione dei signori l'ha mandata bene a memoria. Mai mostrare i propri sentimenti, giocare su tutto, usare bene gli occhi e la lingua, ma senza farsi notare. Peppinedda rubò un'altra volta. Che ci devo fare? Frustatela, scrive Marianna e gli porge il foglio con un gesto divertito. Aspetta un picciriddu e poi mi morde. E lasciatela stare allora. E se ruba ancora? Frustatela due volte. Perché non la frustate voi? È vostra moglie, tocca a voi. Tanto sa che Saro non la picchierà. Perché in fondo ne ha paura. La teme come si può temere un canne randaggio male addomesticato, che può, se molestato, addentare una gamba senza pensarci tanto su. Ma adesso, fila, è svenuta in mezzo alla biblioteca. Innocenza, anziché occuparsi di lei, sta pulendo col grembiule la pece che è colata sul tappeto. Marianna si china sulla ragazza. Le appoggia una mano aperta sul petto. Sente il cuore che batte lento, sfiatato. Preme un dito sulla vena che le attraversa per lungo il collo. Pulsa regolarmente. Eppure è gelata, come fosse morta. Bisognerà tirarla su. Fa un cenno a Innocenza che la prenda per i piedi. Lei la solleva per le spalle e insieme la distendono sul divano. Innocenza si slaccia il grembiule e lo spiega sopra i cuscini perché non si sporchino. Dalla faccia che fa, si capisce che non ha prova per niente che la piccola serva fila si sdrai, sia pure svenuta, sia pure col permesso della duchessa, sul divano foderato di bianco e oro di casa Ucria. Troppo stravagante questa duchessa. Non ha il senso delle proporzioni. Ciascuno al suo posto. E se no il mondo diventa un caravan serraglio. Oggi fila, domani saro. E perfino quella piccola delinquente di Peppinedda, che fra lei e un cane c'è solo la differenza di due zampe. Come fa a sopportarla non si sa. Ah ma già, l'ha trovata quel ciccione dell'abate Carlo. E lei se l'è presa. Non si fa in tempo a voltarsi che già ha fatto sparire l'olio. Una volta alla settimana si aggrappa dietro il carrozzino della duchessa, o il canestro tirato dal morello della figlia monaca, felice, col corsetto gonfio di roba sgraffignata. Quel broccolo di suo marito lo sa, ma che ci fa? Niente. Quello sta con la testa chissà dove. Sembra innamorato. E la duchessa lo protegge. Ha perso ogni severità, ogni ritegno. Se ci fosse il duca Pietro, ci farebbe una strigliata coi fiocchi a tutti quanti. Quel povero duca, che se ne sta appeso al chiodo nelle grotte dei capuccini e la pelle gli è diventata come quella delle poltrone. Si è attaccata alle ossa come un guanto usato, tirandosi sui denti. Sembra che ride, ma non è una risata. È un ghigno. Lui lo doveva sapere della sua passione per l'oro, perché le lasciò amorendo quattrocento grani romani con l'aquila del pontefice e sul retro inciso ut communius, più tre monete d'oro con la faccia di Carlo II re di Spagna. Marianna si china su fila. Affonda la faccia negli sbuffi della manica di cotone odorosa di basilico, cercando di dimenticare innocenza, ma lei è lì e continua a inondarla di parole. Ci sono delle persone che le regalano i propri pensieri con malignità acre e spavalda, anche se sono assolutamente inconsapevoli di farlo. Una di queste è innocenza, che assieme con il suo affetto le scarica addosso un fiume di riflessioni spudorate. Bisognerà che trovi un marito per fila, si dice, e che le dia una bella dote. Ancora non l'ha vista innamorarsi, né di uno staffiere, né di un oste, né di un calzolaio, né di un vaccaro, come succede continuamente con le altre serve che vengono aggiornata. Sta sempre dietro a suo fratello e quando non può accompagnarsi a lui se ne sta sola con la testa un poco piegata, su una spalla, gli occhi persi nel vuoto, la bocca serrata in una smorfia dolorosa. Sarà bene che si sposi in fretta e faccia subito un figlio, si ripete Marianna, e sorride nel sentirsi fare dei propositi che avrebbero fatto sua madre o sua nonna o perfino la sua nonna che aveva vissuto la peste di Palermo nel 1624. Non ci poté Santa Ninfa, non ci poté Santa Agata che proteggeva la città, ma un'altra santa, bellissima, di nascita nobile, dell'antica casa dei Sinibaldi della Quisquina, Santuzza Rosalia. Solo Idda ci seppe dire alla peste, basta cussì. Ha scritto su uno dei suoi quaderni nonna Giuseppa, e quel foglio è ancora lì, fra i biglietti del Signor Padre. Sposare, figliare, fare sposare le figlie, farle figliare, e fare in modo che le figlie sposate facciano figliare le loro figlie che a loro volta si sposino e figlino. Voci dell'assenatezza familiare, voci zuccherine e suadenti, che sono rotolate lungo i secoli conservando, in un nido di piume, quell'uovo prezioso che è la discendenza Ucria, imparentandosi, per via femminile, con le più grandi famiglie palermitane. Sono le baldanzose voci che sostengono con le loro linfe sanguigne l'albero genealogico carico di rami e di foglie. Ogni foglia un nome e una data. Signoretto, principe di Fontana Salsa, 1179, e accanto delle minuscole foglie morte, Agata, Marianna, Giuseppa, Maria, Teresa. Carlo Ucria, altra foglia, 1315, e accanto Fiammetta, Manina, Marianna. Alcune monache, altre sposate, tutte si sono sacrificate negli averi, assieme ai fratelli minori, per mantenere l'unità della casa. Il nome di famiglia è un orco, un germano marino, un ercole geloso che mangia con la voracità di un maiale. Campi di grano, vigneti, galline, pecore, forme di cacio, case, mobili, anelli, quadri, statue, carrozze, candelabri d'argento, tutto manda giù questo nome, che si ripete come un incanto sulla lingua. La foglia di Marianna non è morta solo perché lo zio Pietro ha ereditato dei terreni imprevisti e qualcuno doveva pure sposare quello stravagante. Marianna è scritto a letterine d'oro nel centro di un piccolo innesto vegetale e fa da tramite fra i due rami della famiglia Ucria, quello che è stato per estinguersi per le stranezze del figlio unico Pietro, e l'altro più prolifico, ma anche più pericolosamente in bilico, sul precipizio della bancarotta. Marianna si ritrova complice di un'antica strategia familiare, dentro fino al collo nel progetto di unificazione, ma anche estranea, per via di quella menomazione che l'ha resa una osservatrice disincantata della sua gente, corrotta dai libri, come diceva la zia Teresa professa. Si sa che i libri guastano, e il Signore vuole un cuore vergine che perpetui nel tempo le abitudini dei morti con cieca passione d'amore, senza sospetti, senza curiosità, senza dubbi. Per questo se ne stai stupidita su questo tappeto accanto alla serva dalla testa ferita, e si torce come un bruco, frastornata dalle voci degli avi che le chiedono ossequio e fedeltà, mentre altre voci petulanti, come quella del Signor Hume col suo turbante verde, le chiedono di usare, mandando al diavolo quella montagna di superstizioni ereditarie.